Ed eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Siamo da Lina Milano, questo è Conversation Beat con Studio Murena, un applauso. Buonasera, bella Lina. Noi siamo Matteo e Giuliano di Macedonia Radio Statale, portiamo i saluti del resto del team e siamo pronti a cominciare la nostra conversation con Studio Murena. Siamo molto curiosi di vedere cosa ne uscirà e soprattutto quanto belli saremo in video. Io poco, ma i ragazzi li vedo tutti molto... Siete effettivamente molto belli. Come state innanzitutto? Stiamo bene, siamo mercoledì a Milano, sono alle 6 e mezza di sera. Qui tendenzialmente non bene, però ok. State per partire con il tour. Siamo qui in apertura al vostro club tour di Wadirum. Sensazioni a caldo prima dell'inizio? Ma in realtà abbiamo avuto... Lo scorso mese è stato tutto molto di preparazione ai concerti, abbiamo un nuovo arrangiamento che vogliamo testare un po' sulla gente e quindi ci sta... Speriamo le risposte siano come al solito. Prove su prove su prove e poi si vede sul momento. Il tour parte venerdì da Torino e poi avrete la data milanese di sabato a Santeria, giusto? Yes. E noi ci saremo ovviamente. E niente, quindi adesso direi che possiamo iniziare col terzo grado, a mettervi un po' sotto torchio. Vuoi che inizi io? Inizio io. Allora, io parto subito sul versante live. Quest'estate avete fatto una streak di aperture e concerti clamorosa perché nell'ordine avete aperto per già Miroquay, Red Hot, Lo Ziget e uno showcase bellissimo prima del concerto dei Calibro 35 qui a Milano. Ma se su due piedi adesso dovessi chiedervi qual è l'occasione live o comunque il festival, il concerto, la venue dove vorreste suonare nei vostri sogni, la risposta sarebbe? Io ce l'ho ma ve la dico dopo. Qualcuno ne ha una serie, io solo cazzate da dire. Qualcuno ha qualcosa di serio da dire, è importante. Stadio Diego Armando Maradona. Ecco. L'apertura a Gigi D'Alessio. Vabbè, certo che San Siro... Facciamo un po' Tiny Desk. Facciamo un po'... Per me è Glass Tomboli Festival. Non so perché... Secondo me sono entrambe performance che si addicerebbero... Che si addicono molto al vostro stile perché è Tiny Desk da una parte e Glass Tomboli dall'altra, insomma, un bel range. Io la risposta però ce l'ho. Secondo me il Club to Club. Stavo tornando l'altro giorno dopo un weekend di concerti e pensando alla... Quest'anno, vabbè, se qualcuno è stato saprà che la linea editoriale ha deciso di non portare artisti italiani perché il tema è stato quello del mondo ma se dovesse ritornare con la prossima edizione a portare degli artisti italiani secondo me la vostra musica più che altro anche da un punto di vista visivo, estetico secondo me potrebbe stare molto bene su un palco come quello del Club to Club. Quanto è quotata questa cosa alla SNAI? Io sono più tipo da Primavera Sound. Ci sa. Mi caserebbe, no? Ma anche Club to Club sarebbe interessante. Ok. Ultimamente stiamo un po' ragionando a sonorità che un po' magari dialogano anche con quel mondo un po' di più. Abbiamo fatto un pezzo tecno perché Karma voleva fare un pezzo tecno. Adesso mai più lo faremo. Beh, senza dimenticarci che Club to Club quest'anno ha suonato una coppia di artisti che secondo me è clamorosa. If Tumor e King Krul in successione. Peraltro King Krul secondo me si adatta molto bene anche alla roba che fate voi come vibe. Quindi insomma, secondo me il percorso dalla loro direzione ci può stare e io sono molto curioso di vedere dove potrete andare a finire su dei palchi così. Perché secondo me... Sarebbe figo, sarebbe fighissimo. L'occasione esiste. Ma a proposito di palchi, di concerti, di cose. A me mi ha sempre incuriosito la questione... Io sono napoletano, penso si senta. E da buon napoletano sono molto scaramantico. Voi avete tipo un rito propiziatorio prima dei concerti? Un modo per caricarvi a vicenda? Ma c'è una cosa molto... Sì, una cosa molto tenera. Che patatone. Così, in realtà ci diamo un abbraccio circolare. Chiaro. Che vuol dire che uno abbraccia quello alla sua destra e poi... No scherzo, ci abbracciamo tutti e poi saliamo sul palco. Quando si riesce a fare un abbraccio alla francese... Un rito scaramantico non c'è. No, in realtà questo può essere... Cioè poi... C'è stata molto carina con questo coraggio in realtà perché... Simone, che gli piace dire le robe all'ultimo, ci ha detto sette giorni prima che avremmo aperto i Red Hot Chili Peppers. E lui lo sapeva da un annetto, no? Quanto è che lo sapeva? Un bel po'. Però la settimana prima ci fa una sorpresa per voi. Provate a indovinare. Nessuno ovviamente ci ha preso. Anzi, in realtà qualcuno ci aveva... John Fruscianti, vi hai detto? Eh. Vabbè, allora era facile. Ecco, comunque... Mi hanno regalato un vinile di Californication e dentro il vinile hanno messo questa foto, poster, di loro che si abbracciano esattamente nel stesso modo in cui lo facciamo noi. Che vabbè, non sarà la novità del secolo, però è caduta proprio a fagiuolo. Stanno succedendo conversazioni nel frattempo. Questi due microfoni ci limitano molto. E no, torno alla realtà e alle cose concrete. Come dicevamo prima, sta per partire il club tour di Wadi Rum. Eccolo lì. Due copie del bellissimo vinile. Tre copie. N'è poi che è comparsa un'altra. No, ragionavo oggi che ci avviciniamo molto rapidamente ai sei mesi del disco, perché il disco è uscito il 12 maggio, se non erro. Quindi tra pochissimo saranno passati sei mesi. E una cosa che mi chiedo sempre, riguardo alla prospettiva che gli artisti hanno dei dischi che suonano dal vivo, è nel momento in cui lo andate a preparare, come mi dicevate prima, avete cambiato gli arrangiamenti, c'è tutta una serie di preparazioni che va fatta prima del tour. Come cambia la prospettiva su un disco che avete scritto e che dovete riportare dal vivo dopo una prima parte di tour? Ma considera che comunque il disco quando è uscito l'avevamo scritto un anno e mezzo prima rispetto all'uscita. Quindi comunque avevamo già portato delle cose dal vivo come chicchette speciali, Wadi Rum e Mona Me le abbiamo fatte anche nel tour precedente all'uscita del disco intendo. Quindi in realtà è anche molto stimolante poi riadattare cose, risvilupparle, anche perché poi le tue orecchie non risultino ferme ma possano sempre vivere di vita proprio. Quindi più o meno in generale vale anche per le produzioni prima. Dentro gli arrangiamenti del live nuovo abbiamo inserito le produzioni che stiamo facendo, le demo che stiamo facendo in questo periodo, le abbiamo inserite in qualche modo, in modo anche poi da vedere come sia. Cioè ci possiamo aspettare dalla Tecno, dal tour? Cioè si poca sulla Tecno? È una cosa di domenica, un'idea domenicale, stranamente. No, però ci sono due o tre pezzi nuovi, sì. C'è qualcosa di nuovo, anche degli arrangiamenti pensati solo per il live. Ho visto che peraltro avete anche tutta una serie di ospiti, che vabbè avete innanzitutto gli artisti in apertura, che ho visto che avete annunciato adesso per le date di Torino, Milano e una terza, Bologna anche. E poi ho visto che avete Carlo Corallo al live in Santeria, quindi ci si può aspettare anche delle chicche da quel punto di vista. Ma sì, beh, sui concerti e sul tour assolutamente sì, ci piacerebbe appunto invitare anche più persone e allargare di più il ventaglio. E allora qui mi collego subito a un'altra domanda a Stecca. Se doveste portare sul palco o comunque collaborare con un artista casuale che mi dovete rispondere in 30 secondi, chi sarebbe? Italiano o internazionale? Dai, facciamo doppia risposta, uno italiano o uno internazionale? No, uno collettivo perché... Vai, dico l'internazionale, dai. Pufuleti. Bellissimo. Però non è così internazionale, scusa. Vabbè, però è italiano lui, eh. Ma è siciliano? Non so se sono soddisfatto da questa risposta. Forzato. Forza? Napoli? Sempre, sempre. Italiano io direi... Liberato? No, vabbè, sì, se vuole sì, però io direi Salmo. Ci sta, ci sta, soprattutto con le cose che fate voi e il vibe, ci sta. Scherzo, scherzo! Perché è liberato? No, forza Napoli! Ah, è il meme, ok, per il meme. Sta cercando di portarti verso il suo mulino, capito? Esatto. Ti sta lavorando così. Sì. No, io avevo una domanda per quanto riguarda i concerti, non voglio smovermi troppo da questa cosa. La cosa più strana che avete visto dal palco che succedeva tra la crowd e la folla. A me è arrivato un ghiaccino. A Palomella. A Palomella, che bello! A lui è arrivato un ghiaccino dal palco. Al concerto in cui sei stato. Non diciamo quale, però... Davvero? Non sono stato io, non sono stato io, chiaramente, però... A parte che... Però, essendo che il lancio era morbido e non dritto, abbiamo pensato che potesse essere comunque un apprezzamento. Chiaro. Perché comunque non era dritto. Il nostro fonico ha detto, però rega, se ci pensate... Chiaro, se ci pensate... Era Palomella, quindi... Non era ammirato a fare male. Esatto, si vedeva. Però c'è da dire che stavano tutti aspettando gli headliner. No, no, certo, quindi se ci hai lanciato un ghiaccino... Sì, esatto, sarebbe potuto succedere di meglio, disse che eravamo in provincia di Salerno, comunque ricordo. E Matt? Mi piace questo passaggio di microfono che mi dà il ruolo. E no, io torno un attimo sulla questione sempre collaborazioni. Nel disco, in Wadirum, c'è una... Secondo me è una serie di ospiti che avete portato in un... Cioè, in un disco da tot tracce che è difficilmente uagliabile comunque, Perché passare da Gaemon e Danno ad avere poi Paolo Fresu è qualcosa di clamoroso. E la cosa che mi stupisce è che in qualche modo la gran parte delle persone che suonano nel disco Possano essere considerati un po' come dei modelli, perché appunto c'è Gaemon e Danno a livello di pop italiano Sono delle reference comunque abbastanza strong. E quello che appunto volevo chiedervi è Com'è stato l'approcciarsi a delle persone che comunque rappresentano per la musica italiana E non solo delle figure che comunque molto... Non dico che hanno dell'autorità, però ecco. Vabbè, sicuramente tot di timore reverenziale all'inizio Penso fosse scontatissimo Anche le prime volte che abbiamo parlato con il Danno Per me è stato super emotional. In generale però queste collaborazioni sono nate da un interesse che arrivava Soprattutto dalle persone che hanno poi collaborato nel disco Che immagino che sia la cosa comunque che ti dà più piacere Vedere che qualcuno vuole collaborare con te E anche perché comunque la nostra cosa ha una forma un po' particolare Quindi è difficile poi consegnarla a qualcuno Che non sia per nulla interessato e dirgli fai questo È complesso Quindi c'era tanto... Ci vuole un po' di intesa diciamo Comunque di condivisione di alcune cose per fare Peraltro sono tutte personalità E qui poi mi riattacco a un discorso che magari possiamo fare in seguito Che vengono da mondi comunque molto diversi tra di loro Perché già prendendo come esempio di pop Danno e Gaemon sono due persone che negli anni poi hanno fatto un percorso artistico completamente diverso Quindi è bello anche vedere che al di là poi della vostra variazione interna musicale Che comunque unisce tanti generi e tante suggestioni diverse Siete riusciti a portare anche tante persone che provengono da mondi diversi A sintetizzarle in un disco che comunque sia a livello di sound Che a livello di come siete riusciti a comunicarlo esteticamente tutto Parlavamo prima anche della copertina che hai fatto tu Che secondo me è spaziale, comunica benissimo quello che è il vibe dell'album E appunto è bello vedere come siate riusciti a creare una sintesi che suona veramente molto bene Allora mi sono perso sulla domanda No in realtà è una delle mie classiche domande che finiscono per essere solo un apprezzamento Grazie Però no ad esempio se vogliamo parlare anche un po' più del lato estetico della copertina Sì la copertina è stata un mix di complementare di un fotografo Un lavoro tipografico che ha fatto Riccardo Michelazzo Poi ho lavorato alla post-produzione di queste due cose La foto quindi di Luca Maledetti Mi ha fatto insieme al set fotografico nella cava a Carrara Ah sì dove ci sono poi tutte le foto di voi tutti assieme Quindi cercavamo un luogo che potesse riassumere quella che era la nostra idea di tutto il disco Quindi del non luogo però che fosse anche legato a un luogo desertico Una specie di oasi Tutti un po' questi richiami di luoghi immaginari che ci sono nel disco E quindi alla fine per una serie di motivi siamo riusciti ad arrivare alla cava di Ammo Principalmente perché Amedeo abitava dente di fianco al proprietario di questa cava Esatto E quindi in realtà il tutto si è trasformato in una bellissima giornata lì a Carrara Dopo con queste foto siamo riusciti a lavorare poi sia alla parte della copertina Anche ai visual dei concerti che per questi live saranno diversi Infatti sono un po' corto perché sto lavorando tutta la notte a sta roba Se venite a sentire il tour apprezzate questa cosa perché c'è chi ci sta lavorando E quindi alla fine tutte le cose sono un po' riunite E hanno poi creato il filone estetico legato all'album Per questo nuovo tour stiamo cercando di dare una linea leggermente diversa Anche per dare una variazione sia con i visual ma anche con i poster Sì già le locandine ho visto che hanno comunque un tipo di vibe diverso E poi avremo un po' di merchandising nuovo quindi ci saranno un po' di anche qua tutto un nuovo filone Che vogliamo dare insieme ai nuovi arrangiamenti E anche qui guardiamo in camera Una cosa che non sono abituato assolutamente a fare Noi veniamo dalla radio io non ho assolutamente la percezione di essere ripreso Ma conservati i soldi per il merch Ti passo la parola Sì allora io sono molto curioso Ultimamente mi sono trovato molto a parlare del mio artista preferito Perché ha rilasciato tipo tre album in un anno E volevo sapere la musa ispiratrice il muso ispiratore di ognuno di voi Perché ci sono tante influenze sono molto curioso di sapere questa cosa Ok dai io dico Isotope 217 semplicemente perché è stato anche il non so L'ascolto di quel disco è stato abbastanza casuale Era uscito per caso su Spotify nel 2015 Poi mi sono sempre ascoltato questo disco per un sacco di tempo E alla fine è diventato anche il nome di un pezzo del primo album Utonian Che il disco è Utonian Automatic degli Isotope Per realtà tutti gli artisti che erano all'interno di questo Cioè molti degli artisti che erano all'interno di quel progetto Sono poi diventati adesso singoli artisti famosi Basta pensare a vabbè c'era Makaya McRaven l'altro giorno Che era di quel giro Jeff Parker Rob Mazurek Eccetera eccetera Quindi tutta quella wave di Chicago Poi ci accompagna anche adesso Giusto a Jets mi aveva sentito Bella Marghei Che è anche lui un'artista incredibile Quindi tutto quel mondo è stato sicuramente di grande ispirazione Più che altro perché nasceva da una wave elettronica Per certi versi pur essendo tutti i Jetsisti eccetera Però avevano questa forte componente elettronica Che poi accompagna un po' anche il nostro lavoro Quindi io dico Isotope 217 Top Molto difficile Anch'io ti dirò qualche nome di musicista che ha mischiato elettronica produttori Tipo Shigeto, Flying Lotus, Amon Tobin Tutto quel mondo lì di gente che sta manipolare il suono E che ha mischiato produzioni con musica jazz E ha fatto una nuova wave Io dico MF Doom Chiaramente E basta Mio padre MF Doom No in realtà Oltre a Il disco Matt Villainy È stato il pretesto per cui C'è uno dei dischi che ci passavamo Quando ci siamo conosciuti Quindi era una cosa che condividivamo già Allora Chiteristicamente Appunto essendo io Chiterista Ricordiamolo Direi Mansur Brown Ma un po' tutta appunto questa scena inglese Che può essere Oscar Jerome O Tom Mish E i soliti No non è vero Siete conosci che questa conversazione non è avvenuta Perché nessuno l'ha sentita No no Allora lui ha detto ci sarà sabato Io ho detto no non è possibile Giorgio Di Citelli gli ha scritto una mail Forse ci sarà Forse Forse E invece Un artista Un rapper Dico sempre inglese E appunto Avete citato prima che abbiamo aperto il suo concerto Quest'estate L'Oil Karner Perché anche come produzioni Musicisti Che ha alle spalle Con cui scrive Teniamo molta ispirazione Anche da lui Non dici Pat Metini Pat Metini Sì anche Faceva Avevo chiesto un artista Tipo sei a testa Si ha fatto la tesi Vuoi dirci un po' della tua tesi su Pat Metini Come inizio Non mi ricordo niente Ok Io dico I Bad Bad Not Good Che non avevamo mai detto È la prima volta che ne parliamo Di Bad Bad E no in realtà ci hanno detto In esclusiva Per Lina Milano In esclusiva per voi No in realtà ci hanno detto Non dovete fare i Bad Bad Not Good italiani Possiamo dire chi l'ha detto? Quell'uomo era Tommaso Collivo Tommaso Collivo No nel senso che Ci siamo ispirati veramente tanto a loro Sia Come mood proprio del progetto Dall'inizio Sia proprio ovviamente musicalmente E poi ovviamente Gli Isotop come ha detto Matteo Ci hanno messo d'accordo Forse non ci conosciamo bene neanche ancora Però già sapevamo che avevamo questi ascolti in comune Medeschi Martino Wood Tutte quelle composizioni un po' Tra l'hip hop e il jazz Che hanno un po' aperto la strada Tutto ciò Ma se invece dovessi chiederlo a te Giuliano Cioè tu ce l'hai Esatto voi Perché tu spesso in puntata Fai ai miei artisti Però non mi hai mai detto il tuo preferito Io prima ho parlato di un artista Che ha rilasciato tre album Nell'ultimo anno Sono pochi Mac De Marco Mac De Marco Ieri ha fatto uscire l'album Ieri ha fatto uscire l'album Mi ha chiesto Se posso dirlo Mac grazie mille per averci donato un altro album Ha fatto uscire tipo 300 canzoni Questo anno E ha fatto un album di 200 tracce Tipo l'ultimo Non lo sapevamo Il penultimo che hai fatto Vallo per tutti Assolutamente sì Quattro anni fa Certo C'eri anche tu Shit Shit C'ero anche io al Magnolia A sentire Mac De Marco quattro anni fa Grazie Per la cronaca Tra l'altro Tra il pubblico c'era una giovanissima Gioantile Non so se l'hai vista C'era una giovanissima Di quattro anni fa Gentile Aveva appena iniziato a cantare in italiano Aveva appena iniziato a cantare in italiano Perché te ne ricordi tra il pubblico? Vabbè Gioantile Lo sappiamo tutti È una persona che non passa in Inosservata È una bella ragazza Abbiamo ben capito Abbiamo ben capito da che parte andrebbe questo discorso Se lasciassi continuare Giuliano Però scusa posso dirlo anch'io Il mio artiste preferito Perché il mio invece Io mi rifaccio più invece a quello che ha detto lui Della questione del manipolare il suono Perché il mio è Aiden Non so se qualcuno di voi lo conosce Irlandese È uscito Da meno di un annetto Con un disco che si chiama In case you missed it E lui mi piace veramente tanto Perché secondo me È molto attuale Nel modo in cui ha dimostrato Come il pop mainstream Si possa fare anche Non con delle armonie fatte in 30 secondi E quindi lui mischia elettronica Mischia rap Viene anche Non so se Sicuramente qualcuno qui conosce No copyright sound La youtube del 2015 Tutte le basi di youtube del 2015 Venivano da questo canale Con musica elettronica senza copyright Che è un concept Che non ho mai capito Da che punto di vista dovrei guardare Ma ok Quindi lui esce dall'esperienza dell'elettronica Ma ha appunto saputo Poi nel tempo Rivoluzionarsi E dare anche un Diciamo una definizione nuova Al suo genere Perché Non si può più parlare di pop Non si può più parlare di elettronica È un mix che funziona E qui lancio La domanda più Forse più cattiva Che ho scritto Per questa intervista Che è A chi volete più bene? A mamma o papà? Questa la lasciamo in coda No Il fatto che Il fatto è È una cosa che Vabbè Io mi chiedo Innumerevoli volte Durante il giorno Mentre ascolto musica Esplicitamente riferita a voi Studio Morena Canta rap Suona tutto dal vivo Ha delle incursioni jazz Ovvissime Ci sono nel disco Anche delle incursioni Più verso il pop Verso il soul Mi avete detto adesso Di sperimentazioni con l'elettronica Ma Nel 2023 A voi come gruppo E anche come ascoltatori Di musica E gente che si intende di musica Quanto importa Riuscire a definirvi In un genere Ha ancora senso O è una questione Su cui non ha più senso Interrogarsi Io penso che In questo momento In realtà Forse più Più che per generi musicali Al momento Funziona più per tag Cioè che Per quanto ci riguarda Non 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 ci interessa Fermarci su Una categorizzazione Di quello che facciamo Ha tanti tag E tante influenze Come dicevi Ma in realtà Funziona su tantissima musica Che adesso Ascoltiamo È tutto molto più commisto Magari rispetto Ad altri momenti storici Quindi Per me Poi non è che ho chiesto a loro Per me Ha più senso Parlare di influenze Più che di Genere musicale No ma in realtà Cioè Secondo me è molto Complesso Dire Ad esempio Se parli di jazz Che cos'è il jazz Cioè È solo quando la batteria Fa swing Ding 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 Oppure anche tutto il periodo dopo Appunto Con il prog O la fusion Cioè anche quello E jazz però Certo certo E quindi è molto complesso Pensare adesso Di dire No faccio jazz rap No sono super d'accordo Con questa cosa Anche perché Recentemente Ascoltavo un disco Che è una vita Che volevo ascoltarlo E finalmente mi ci sono messo E l'ho sentito tutto Che è il disco Che ha fatto Floating Points Con La London Symphony Orchestra E quel trombettista jazz Che non mi ricordo Che non mi ricordo come si chiama Ok Che Cioè Io Mi sono approcciato Qualche anno fa All'elettronica E alla classica Contemporanea Perché mi interessava Capire un po' Qual è il panorama Perché la musica classica È una cosa che ho sempre odiato Di base Quindi ho detto Vediamo come la fanno Vediamo come la fanno adesso E Ho scoperto un mondo Che secondo me è clamoroso E ascoltando quel disco Effettivamente Tu ti ritrovi a chiederti Fino a che punto Questo è musica classica Fino a che punto Posso ritenerlo jazz E fino a che punto Invece È un qualcosa Che punta Appunto a creare Una sintesi Che è la cosa Di cui si diceva prima Che semplicemente Suona bene Cioè Possono esserci tutte le influenze Del mondo L'importante È che sia un qualcosa Che Dà soddisfazione Nel suonare Nell'ascoltare Ma certo Secondo me la difficoltà Più nel Sapersi riconoscere In un genere Perché alla fine Un artista Alla fine fa Quello che Nel senso Gli viene Perché ha ascoltato Certe cose Eccetera Quindi è molto naturale Non abbiamo mai pensato Di fare un pezzo Così Più che altro La difficoltà È Saper essere Forse riconosciuti Dall'altra parte Come un qualcosa Perché se no Rischi anche Di Finire in una Marea Di In un lago Di musica Dove nessuno Sa più Trovare Effettivamente Quello che fai Quindi la difficoltà Forse Di essere Poi riconosciuti Come un genere Stesso Cioè Studio Morena Fa la musica Di Studio Morena Floating Points Perché Ha avuto tutti Quegli ascolti Ed è diventato Il disco Forse uno dei Vinili Vivendo Dell'anno Perché Floating Points Alla fine è riconosciuto Come quello che fa Sì un'elettronica Comunque pop Però Ricercata Però ha chiamato L'orchestra Però ha chiamato A fare la Sanders Che è una leggenda E alla fine Allora tutti in lui Hanno visto Questa figura L'hanno riconosciuto Come quello Che faceva Quella cosa lì Quindi quello Che vorremmo noi È riuscire A far capire Che questo È il nostro progetto Quello che facciamo Noi è questo E poi a quel punto lì Dall'altra parte Hai effettivamente Un pubblico Che poi viene Magari a sentirti live E ti compra il disco Eccetera eccetera Ma soprattutto Riesci ad avere Una comunicazione Più diretta Con quello che fai Io con il permesso Di Matteo Volevo Inaugurare Un mini format Di Giuliano Che intervista Ho paura Allora il format Si chiama Capiamo Le risposte Le vostre risposte Che mi aspetto Sono gas O non gas Dove gas È bello Non gas È non ci piace Quindi Tutti a giro Sempre Siete pregati Di tenere il pollice A mezzo Così ogni volta Ogni volta Potete girarlo Assolutamente sì E Non vedo il tuo pollice Ah ok scusa Pollice Pollice È un po' complesso Devo dire così O così Vai E dimmi Cassiopea Capiamo Cassiopea Gruppo giapponese Fusion Gas Io li conosco Dico gas Non so se gli attivi Tendenzialmente gas Io mi fido Tendenzialmente gas Gruppo tecno Palese No scherzo Villa Banks Parola Per me non gas Per me non gas Per niente No No Cosa si chiama La DC Non vale Garibu Mi fido Ornella Vanoni Gas E come ultimo Come ultimo 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 ma non meno importante Sto cercando di Voglio suggerirne uno tu Voglio suggerirne uno io Ma io non ho questa Spero non si sia sentito in microfono Gas Pietro Miliani Pietro Miliani gas Gas Allora Mina Vabbè Altra domanda Ina gas Uno divisivo Uno divisivo Cristiano Malgioglio Ha scritto dei pezzoni Sì Ha scritto indubbiamente dei pezzoni Un personaggio divisivo Non lo so Io sono sempre Lo sai che io sono sempre divisivo Nei miei gusti musica No Niente Niente politica Se Giorgia Meloni è divisiva Ragazzi c'è un problema Staccalo Chiudiamo Chiudiamo qui No però Peraltro mi fa molto ridere Vedere come Cioè Tra queste sette persone Sette persone sedute Nessuno Cioè quasi nessuno Condivide gli stessi gusti Che proprio che dici Abbiamo Uno ha detto un nome E tutti lo conoscevano subito Ornella Vanoni Ornella Vanoni ok Sarebbe difficile non conoscerla Ce l'ho io l'ultimo Poi dici Gigi D'Alessio Non gas Non gas Mi dispiace Abbiamo un gas Due gas E cinque non gas Ripeti perché non si è sentito Per me Napoli Gas Totale Diciamolo Diciamolo No mi dispiace Non sono d'accordo Vabbè ragazzi Qui andiamo su delle cose Niente calcio Niente politica Fuori Fuori No però appunto Mi fa veramente Al di là del farmi ridere Il fatto che nessuno Qui dentro Abbia le stesse Reference musicali Ritorniamo poi A quel discorso Appunto Del Riuscire a rendersi Riconoscibili Riuscire a Provare una via In un mondo musicale Che Oggettivamente È sempre più complesso Perché Tra le sperimentazioni Che ovviamente Non si fermano mai L'industria della musica Che ha sempre problemi Che hai Ok È difficile Quanto è difficile Effettivamente Rendersi riconoscibili Per quello io vi chiedevo Dei generi Perché Uscendo da una realtà Come quella italiana Dove Ad esempio Il jazz rap È una parola Che non è mai uscita Cioè Ci sono degli artisti esteri Che si dice Ok jazz rap In Italia È una cosa che Fino al vostro avvento Io credo Ci siamo noi Esatto Fino al vostro avvento Credo non sia mai Stata pronunciata Da alcun magazine musicale E Quanto effettivamente È difficile Far capire alle persone Quello che si vuole fare Allora Secondo me La cosa dei generi È una cosa che Nel pensiero umano Proprio la categorizzazione È una cosa di base Qui andiamo sulla filosofia Effettivamente Perché C'è una questione generale Tu dici Esatto Una questione generale Come distinguiamo Che noi siamo persone Perché siamo fatti Con due occhi Eccetera E tutto il resto E uno da fuori Può vederci Uguale Me e te Anche se siamo alti Molto diversamente Anche sui generi Questa questione È bruttissima Perché è brutta Però È un dato di base Da cui si parte Però il pensiero moderno Rielabora Questo concetto Per dire Ok Partiamo dai concetti Partiamo dalle categorie E il pensiero Il pensiero deve Crearle Per poi Elaborarle E rielaborarle Fra sé E crearne di nuove Quindi Noi siamo in quel processo Siamo a metà di quel processo In cui stiamo creando Qualcosa di nuovo Più o meno Più o meno Puoi dire che stiamo creando Qualcosa di nuovo È una cosa un po' Oltre Anche perché Quanto di nuovo Effettivamente si può creare Sempre Che pessimismo Però dai Diciamo che Il pensiero Credo sia questo Ci sto Mi viene anche difficile Seguire con qualcosa Perché effettivamente Sono degli argomenti Di cui Spesso si parla E si finisce sempre A scadere nel banale Perché Sembra quasi Che la risposta sia Un Noi facciamo la musica Vediamo cosa ne esce Però effettivamente Non ci si rende conto Che è così Perché Il genere musicale È una questione Da cui Per troppo tempo Si è di pesi Anche a livello Economico A livello di vendita Di dischi Ok Perché uno doveva andare Nella libreria E trovare i dischi rap Dove c'era scritto rap I dischi pop Dove c'era scritto pop Adesso Oggettivamente Un disco come Tyler The Creator Come l'ultimo Di Tyler The Creator Dove lo vendi? È pop? È rap? Lo metti in tutti gli scompartimenti Un po' anche il nostro Secondo me è questo il bello Sì Secondo me è questo il bello E Allora Io ne ho un'altra Io ne ho un'altra Allora Questa è un po' più seria Un po' più seria Rispetto alle altre mie Allora Penso ci Debba essere Un periodo Nella carriera Di un artista In cui dice Potrei anche smettere Ho fatto quello Che dovevo fare Qual è l'evento Che scaturirebbe In voi questa cosa? Cioè qual è l'evento Che vi direbbe Ok sì La musica potenzialmente Infinita Possiamo fare musica All'infinito Sì ok Sono perfettamente D'accordo con te Ma Per carità No no Ma Ipoteticamente Il fatto Che succede E vi fa dire Ok posso Morire felice Tra virgolette Un sogno L'evento Che può essere Una collaborazione Può essere Un contratto Assolutamente Una cosa che può Distruggerci O una cosa Che può farci Talmente felice Da dire No 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 Una cosa che Mi fa dire Ok posso morire felice Relativa chiaramente Al progetto Studio Morina Chiaramente Impositivo Ma È difficilissimo Infatti Tipo ti stavo dicendo Qual è l'evento Che ti farebbe Smettere di fumare Le sigarette Se le fumi No secondo me Cioè Il motivo per cui Abbiamo deciso Di provare A fare questa cosa Era quella Di creare Un po' in Italia Una risposta All'estero Che c'è sempre stata Su questo Per quello diciamo Non abbiamo inventato Assolutamente niente di nuovo Perché all'estero Esiste un bel posto E cercare Che Cioè Farsi che in qualche modo Anche in Italia Possa essere riconosciuto Come tale In realtà Sarebbe questo Veramente lo scopo Che ci renderebbe Più pienamente Felici No Siete d'accordo O no Non da farci smettere Perché quello Secondo me No Però da dire Ok Un po' quello che Volevamo fare L'abbiamo fatto È un po' Secondo me Secondo me Però adesso ci devi dire Cosa ti farebbe Smettere di fumare Esatto Perché tu hai scelto Di fare questa domanda Che è oggettivamente Una domanda Veramente cattiva Adesso rispondi A quest'altra domanda Cattiva Non è una domanda Roba Cioè Se noi avessimo Ma tra un anno Apriremo Il redotto Ma che cosa Stai dicendo Chiaro E quindi Secondo me Sono robe Che cambiano A seconda Un po' Dello Step E della fase In cui uno è Cioè È difficilissimo Pensare a una roba Perché poi magari Ci arrivi e dici Ma Non ho voglia Cioè Forse non è questo Il punto La roba che Perché l'essere umano Vuole sempre di più Qualcosa Di base Ok ci sono Beh anche perché Comunque effettivamente Cioè A parte che lo stai chiedendo A dei musicisti A inizio Quasi a inizio carriera Perché poveri parelli Ci avranno davanti Pure degli anni di musica Ma io non intendo Ragazzi Io sono stato Fra inteso Io non intendo Che dovete smettere Di fare musica Cioè capiamola Ci siamo toccati tutti Cioè capiamola Questa cosa No Non intendevo Assolutamente questo A proposito di smettere Di fare musica Quanto Avete paura Dell'intelligenza artificiale E l'impatto Che potrebbe avere Sulla musica In realtà abbiamo Innestato L'intelligenza artificiale E il corpo di Giovanni Cioè lui è Un'essere senziente Lui è un'intelligenza artificiale Com'è Funziona No ma Diverse Devi pormela Nel modo migliore No Allora No perché È una questione divisiva Perché tutti C'è chi dice Ok il futuro La integriamo Cioè Quello che penso Anch'io Non potrà mai distruggerci Un computer E c'è chi pensa E c'è chi pensa Perderemo tutti il lavoro No secondo me Soprattutto per quanto riguarda Il nostro progetto La forza Andare dalla parte opposta Cioè Andare su qualcosa Di più organico Qualcosa Di più vissuto No Alla fine L'intelligenza artificiale Non potrà mai fare Quella cosa lì Quindi L'intelligenza artificiale Va verso The Sphere Las Vegas 14k Di definizione Nello schermo E noi andiamo Sullo fai Non so come dire Allora Sono d'accordo Però La Sphere Las Vegas Cioè Un live Studio Morena Con la Sphere Las Vegas Cioè Poi Secondo me È una cosa Che tutti Sognerebbero Un live No ma lui Lui ti risponde così Però le grafiche Dei due singoli Di Wadirum Che sono uscite Le ha fatte lui Con l'intelligenza artificiale Aspetta Perché Qui Io da artista So che tu stai Per rispondere Tipo No ma c'è tutto Il disco Perché anch'io Anch'io sono artista E capisco Il punto di vista Sulla cosa Era sicuramente Un altro momento C'erano due singoli Che erano usciti Due anni fa Ed era proprio L'inizio Un po' di software Tipo Dolly Eccetera E No vabbè Era due anni fa In realtà Vabbè sì Un anno e fa Comunque Beh come è andata la cosa C'era un giorno Per fare la grafica E c'è uno studio morena Che fa le grafiche Quindi Esatto C'è uno No in realtà Secondo me era interessante Il lavoro su quei Due singoli E sono ancora Convinto Della forza estetica Di quei due singoli Però Detto ciò Non lo riutilizzerei Ora Cioè Dopo quella cosa lì L'ho usata solo Per fare tipo Biglietti di compleanno Se trovate un biglietto Di compleanno Fatto da lui Probabilmente è fatto In intelligenza artificiale In trenta secondi Però no È una questione Secondo me Che vabbè Al di là della musica Ha dei risvolti enormi Appunto Io mi riferivo a te Perché appunto Sapendo che Con Cioè nel Nel medium artistico L'intelligenza artificiale Ha anche Un impatto Anche diverso Da quello che sta avendo Sulla musica E secondo me La cosa Da sottolineare In tutti gli ambiti In cui può essere usata È È uno strumento Va usato Come tutti gli strumenti Comprendendone i limiti E le potenzialità La cosa importante È ricordarsi comunque Che E qui ritorniamo Sempre allo stesso discorso Del La musica La fanno le persone Quindi I generi Le etichette Sono una cosa Poi ci sono le persone fisiche Che fanno musica Uguale qui Per l'intelligenza artificiale È uno strumento Si può utilizzare Ci sono secondo me Anche Dei risvolti positivi Sul master Sul mixing Quello che Quello che vuoi Però Sempre occhio che La creatività È quello che sta alla base Perché È quello Il valore Da cui non si può prescindere Perché Alla fine Uno faccia musica O qualsiasi tipo di arte Perché Lo fa per se stesso Prima di tutto Quindi Sicuramente A livello commerciale Per tante persone Già adesso È un problema enorme L'intelligenza artificiale Magari per noi È un po' più di sbieco Però magari In altri campi In cui lavoriamo Invece Lo è Cioè Anche nel campo Però appunto Della grafica Ad esempio Ormai quante persone Usano Canva E c'è dentro L'intelligenza artificiale Fai qualsiasi roba In 30 secondi E magari Prima invece Chiamavano Qualcuno a farlo Oppure Gli attori Eccetera Secondo Dal punto di vista Commerciale Sì Può essere Un grossissimo Problema Dal punto di vista Di fare Quello che Alla fine A uno Rende Felice Eccetera Quello non te lo potrà Mai togliere Perché comunque Rimane Secondo me L'intelligenza artificiale Quello che non può mai Emulare Di base Sono le emozioni Perché le emozioni Scaturiscono Una serie di cose Quindi Emotività Creatività Genio Una serie di cose Esatto E Sì Io non ho paura Dell'intelligenza artificiale Quindi Intelligenza artificiale Paura o non paura Per me no Per me non paura totale Per me non paura totale Eh esatto Quello potrebbe essere Questo ce lo Questo ce lo devi dire tu però Sì Attenzione Non ho ancora ragionato Ti eri perso la gag Ti eri perso la gag E Che ne imbraccia un fucile Ok No ecco Ecco Speriamo Perché quello già No Ecco No E Niente Io Ho terminato I miei argomenti C'è Però una domanda Con cui io Vorrei chiudere Sì che possiamo farla Dobbiamo farla Che noi appunto Venendo da Attenzione Venendo da Da Macedonia Abbiamo una domanda Che ci piace fare A tutti gli ospiti Prima di chiudere Qualsiasi puntata Se Cosa Se Studio Studio Passione Bella Passion fruit Nessuno ve l'ha mai detto Dovrei consultare Dovrei consultare Gli archivi Ma probabilmente È già stato detto Ma è difficile Non ripetersi Quei frutti Ragazzi Cioè Dai ma Anni diaternipi Cioè Prima o poi I frutti Finiscono Sì ho capito Ma il frutto E la passione Non ci sia Se non sei d'accordo Puoi controbattere Però mi devi dare Un'argomentazione È buono Ma io non ho presente Neanche È quello Con i pallini È il melograno In versione esotica Allora è il melograno In versione No scherzo No ma bene Frutto della passione Ci siamo Abbiamo Stai controllando Stai cercando Giuliano controlla Se qualcuno Ha già detto Frutto della passione Ma dipende Dipende se Aspetta Ma La maracuia È il frutto Della passione La maracuia È oggettivamente Il frutto Della passione E mi sa Che la maracuia Ha detto Rumo La vinta Rumo Che è un altro artista Ok Potete Se volete Potete andare a picchiarlo Non è stato detto In questa commissione Il pomodoro No il pomodoro Non l'ha mai detto nessuno Diciamo il pomodoro Però devi essere eretico Per rispondere pomodoro Siamo eretici Devi essere molto eretico Aspetta Io qua leggo Limone mano di Buddha Tu non Lascia perdere Sono cose che riguardano noi E niente Intanto ringraziamo Studio Murena Ringraziamo Lina Milano E Costello E ringraziamo Conforama Per lo sponsor E ci vediamo Al tour Ragazzi Il tour parte Venerdì Vi facciamo In bocca al lupo Viva al lupo Per tutte le date Noi ci saremo Alla data di sabato E con questo Possiamo chiudere A meno che Giuliano Non mi interrompa No Possiamo Possiamo chiudere Ragazzi È stato un piacere Fare conversazione Con voi Forza Napoli Sempre Forza Napoli E Niente ragazzi Grazie mille Alla prossima Un bacio Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille